Ripresa, arriva al terzo minuto il rigore per il Cagliari, Braglia tocca con il braccio e Piras poi trasformerà. Al trentesimo il raddoppio del Cagliari, Marchetti a Quagliozzi, tiro, Venturini cerca di fermare ma mette in rete. Reagisce fino alla fine il Catanzaro, tiene il gol della bandiera con questo tiro arrabbicinato e violento di Agostini.